3 novembre 1801 nasce a Catania Vincenzo Bellini musicista e compositore diventa noto nel 1826 con l'opera Bianca e Fernando rappresentata al San Carlo di Napoli nel 1827 gli viene commissionata un'opera per la scala e si trasferisce nelle pagine della stampa milanese dell'epoca Bellini è già considerato l'unico operista italiano con uno spiccato stile personale in grado di tenere testa a quello di Gioacchino Rossini a Milano nel 1831 compone la sonnambula e Norma ma la svolta decisiva nella sua carriera come nella sua evoluzione artistica coincide con il suo trasferimento a Parigi dove Bellini entra in contatto con alcuni dei più grandi compositori d'Europa fra cui Chopin muore a Parigi a soli 33 anni a Parigi 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 a